Oggi a Fashion One Top la classifica italiana Amici di Fashion One questa sera ci troviamo all'Equile all'Amazonas L'Amazonas è un ristorante, pizzeria ma soprattutto è una buonissima ciurrascaria Questa sera all'Amazonas una serata molto particolare, una serata brasilera Sono in compagnia del proprietario dell'Amazonas, il signor Tony L'Amazonas è un ristorante, pizzeria e ciurrascheria aperto da pochissimo qui all'Equile Come sta andando? Guarda, questa è la prima serata e visto i numeri penso che sia andato non bene di più Un pizzico in più del solito ristorante, siedi, mangia, cena e quant'altro Invece noi facciamo lo spettacolo con le ragazze brasiliane Il sabato la cucina è totalmente brasiliana, io sono un cuoco Ma il sabato non cucino io, ma ci stanno i cuochi brasiliani Per dare una spinta in più alla solita cena da ristorante Sono in compagnia di Andrea, l'anima delle brasiliane di questa sera Buonasera Andrea, benvenuta a Fechoa Andrea, come si chiama la tua agenzia? Allora, la mia agenzia si chiama Chiu 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 Show Che è un'agenzia di spettacolo e eventi È un'agenzia che organizziamo degli eventi sudamericani, principalmente brasiliani Quindi questa sera vedremo uno spettacolo proprio brasilero Sì, sì, rappresentiamo ogni cultura del Brasile Samba, samba di janeiro Tutti i sabati rinnoveremo queste serate così solo brasiliane E poi il mercoledì faremo l'atino americano e la domenica facciamo anni 60-80 italiani La settimana prossima facciamo del spettacolo con la capoeira, con l'afro Che è della parte del sud del Brasile, del nord-est del Brasile E poi con DJ brasiliani pure, sabato prossimo Poi cerchiamo di fare con la banda live Stiamo portando un pochettino di sudamerica del Brasile qua per voi e qua in Puglia Amici di Fechoa One, se volete degustare i sapori brasiliani Non vi resta che venire all'Egule, all'Amazonas Invitiamo tutti gli amici di Fechoa One Venite a trovarci tutti Vi auguro tanti giorni qua con noi Sì, sì, poi si mangia molto bene pure la fagiolata, la piccana Quindi non perdete, venite e assaggiate un pochettino questo spettacolo Questo cibo brasiliano che è molto buono Grazie a tutti 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 Grazie a tutti